Musica Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale del Team Ombra Altra settimana di spoiler in quel di Vanguard Italia Gli spoiler sono parecchi questa volta qui, sono almeno due al giorno Quindi ne abbiamo tanto da parlare, quindi non serve questo fare un grande preambolo Partiamo, il giorno 1 è The Fishing Day Ovvero hanno rivelato finalmente un bel po' di carte Triangolo delle Bermuda La prima è Reina, frase preziosa Il critico che avranno un po' tutti e stanno cominciando ad avere un po' tutti i mazzi Dedicato al suo Strider Quindi il classico critico che quando la nostra Vanguard attacca Se ha l'Auris nel nome, che è lo Strider che hanno rivelato e vedremo dopo Lo possiamo caricare in anima a questo critico per dare più 5.000 e pescare una carta Questi critici vengono giocati in tutti i mazzi Sono comodi, cioè se abbiamo la possibilità di avere il Vanguard, l'Auris, Intermediate in Mutant, eccetera Quando abbiamo in pratica il Vanguard con il nome Tendenzialmente questi critici vengono giocati Quindi non c'è molto a discutere È un più 5, è un più 1 praticamente a default Quindi non c'è niente da dire di più È il classico critico che hanno tutti i mazzi Poi hanno rivelato l'Amber Clone di Triangolo delle Bermuda Davvero spicca a scintillo del destino Scintillio del destino Ember Clone, quindi quel classico J2 che in GB1 quando attacca si è supportato Si attacca a Vanguard, a Counter Blast 1 fa cose In questo caso quello di Bermuda dice che Quando attacca in GB1 si è supportato a Counter Blast 1 Possiamo scegliere una nostra retro Farcela bansare in mano Scegliere una carta a nostra mano Chiamarla in retro e dargli più 3 In pratica ci permette di fare multiattacco Multiattacco in Lauris Che sarà la sua strategia Lauris è un Bermuda Un po' diverso dagli altri Non basa tanto sul bouncing difensivo Ma basa tanto la strategia sul bouncing in multiattacco Quindi il fare come fa spicca Mi rimbalzo una retro, la richiamo E posso fare un altro attacco Quindi spicca verrà giocata C'è da dire una cosa Il mazzo Lauris è un mazzo molto Counter Blast heavy Quindi spicca verrà giocata sicuramente Non so né in quante copie E né se verrà sfruttata parecchio Per chi comunque il mazzo i Counter Blast li mangia Si giocheranno infatti i Counter Charger Ma non è sempre detto che avranno effettivo valore Però l'abilità di spicca Di permetterci di attacco alla retro non supportata Comunque con supporto Attacco con spicca Counter Blast 1 Ripendo in mano l'attaccante Posso anche rigiocare la stessa Per dargli più 3 E quindi permettergli di diventare O un B2 da 12 O sarà un G3 un 14.000 Eccetera Quasi anche al G1 Diventando un 10.000 Che potrebbe andare a colpire un'eventuale retroguardia È forte È la strategia che farà il mazzo Bermuda preparatevelo Purtroppo sarà uno dei mazzi Non più giocati Ma comunque di alto spessore Cioè non diciamo Trascurate più Bermuda Perché ok Era sempre un mazzo divertente Con Lauris potrebbe diventare un top tier Quindi cominciate un po' a guardarlo A prendere eventuali contromisure A Triangolo delle Bermuda Andando avanti Abbiamo parlato di Lauris Quindi guardiamo Lauris voce miracolosa Ovvero lo Strider di Bermuda E qua vedete già una cosa particolare Armonia Anche Bermuda guadagna la sua keyword Che avrà per tutto G Ovvero armonia Armonia è molto semplice di per sé come concetto È un'abilità Praticamente Quando io vado a schierare una retro Nella stessa colonna di una carta con armonia Quindi nel caso di Lauris Schiero la sua back per esempio Entrambe le unità entrano in armonia Questo è tutto il fatto della keyword Cosa vuol dire entrare in armonia? Entrare in armonia significa che Ci saranno delle carte Tendentemente proprio anche le stesse che hanno armonia Che proccano degli effetti Se sono o no o meno in stato di armonia Nel caso di Lauris Questo effetto che viene attivato È nella seconda parte Quindi nell'effetto GB2 Dice che in GB2 Una volta per turno Quando questa unità entra in armonia Scegliamo una delle nostre unità Quella unità prende più 5 Fino alla fine del turno E questa unità prende più un critico Allora Questo effetto qua è molto buono Perché ci permette di dare a Lauris Praticamente nel caso non ci siamo stati a dare Un critico Se mai farà diventare un 16 Però Questo effetto qui Entrerà molto di più In forza e in vigore Un pelettino più avanti Perché? Perché un pelettino più avanti Avremo carte Che si permettono di bouncearsi E di chiamare retro Durante la battle phase Del nostro avversario Quindi cosa sta a significare questo? Che quando andremo Ho detto Con carte future Ne potremo Durante il nostro avversario Ci attacca Tipo attacca Lauris Noi useremo queste guardie O il guardo Mi sembra anche carte alla mano Che lo fanno Per bouncearci in mano Una retro E chiamarne Una nella stessa colonna Di Lauris Questo andrà A proccare armonia Quindi Entrando in armonia A GB2 Lauris diventa un 16 Per tutto il turno difensivo Cioè tutto il turno del nostro avversario Quindi il nostro turno difensivo Sarà una delle strategie Vincenti Eccetera E se dovesse uscire tutte le carte Già adesso Ci sarà una carta Che potrà permettere Questa strategia difensiva A Lauris Non è ancora stata rivelata Probabilmente uscirà Perché è una delle carte Di armonia Però Aspettiamo prima di Dare certezze E poi Lauris Ha il suo effetto strider Quindi quando l'effetto Di una carta Gli viene stata da sopra Che molto semplicemente Accanto al Blast 1 Ci fa bounceare in mano Una carta E ci fa pescare uno Effetto forte Perché A parte il più uno Accanto al Blast 1 Che è sempre buono Ma soprattutto Bounceandoci in mano Una retro A parte il fatto Di risettarci Eventuali Errori In congruenze Nel campo Noi Tirandocene in mano Una Poi possiamo rigiocarla Per riproccare Armonia in quella colonna E questa cosa È già grossa Ma soprattutto Ricordatevi che Bermuda Ha carte come Emilia Come tante altre carte Che hanno effetti Quando vengono Bounceate in mano Quindi noi Facendo questo Attiviamo in catena Anche altri effetti Di bouncing O di Potenziamento Eccetera Quindi Lauris è lo strider Che giocherà In 4 pairs Giocata Armonia Ma Probabilmente Anche tutti i mazzi Bermuda Non Diciamo Non duo Perché duo Ha bisogno di duo E anche prism Comunque Qualche copie Potremmo vederla in giro Anche in altri mazzi Ma tendenzialmente Il mazzo Bermuda Che potete trovarvi contro Adesso saranno duo Che comunque Con i supporti Continua a essere Il mazzo Bermuda Molto forte Adesso il predominante Però Diventerà Un pelletino più forte Ma Armonia Gli starà sopra E E sarà il mazzo principale Diciamo Preparati ad affrontarlo Ma soprattutto Questi spoiler qui Ci hanno rivelato Una delle cose Che ormai avevamo capito Ma soprattutto Della quale siamo felici Ma soprattutto Il G4 Basico Standard Forte di Bermuda Ovvero Olivia Etual Della scuola Prima cosa importante Da dire Per chi non lo sapesse ancora Un downgrade Bellissimo Da GR A tripla Il che vuol dire Essendo che è una carta Che plippa se stessa Non dobbiamo cercarne 4 Perché Olivia È fondamentale In 4 copie In tutti i mazzi Di Bermuda Non dobbiamo cercarne 4 Per Riuscire a A giocarle Effettivamente Ne abbiamo già Cioè È tripla rara È sempre Altra rarità Però è rarità Menù alta Della GR Cosa dice Olivia Olivia dice Che quando questa rarità Attacca un Vanguard Se il numero di carte scoperte Nella nostra Gzone È 1 o superiore Quindi vuol dire Che siamo in GB2 Perché Deve esserci lei Già stridata E Quella che abbiamo prima Non è un GB2 Ma sì Dice che Accanto a Blast 1 E girando A faccia in su Una carta Un'altra Olivia Ne possiamo scegliere Fino a 5 Delle nostre Retroguardie Se tutte le Retroguardie Che abbiamo scelto Hanno nome diverso Riprendiamo in mano Tutte quelle che abbiamo scelto Se ne ritornano 3 o più Scegliamo 2 carte A nostra mano E le schiediamo In retro Diverse Quindi non possiamo Non possiamo fare colonna Possiamo fare In file diverse Scusa Quindi possiamo fare colonna Non possiamo fare Due attacchi E questa unità Prende critico Fino alla fine Alla battaglia Allora Lauris Si su armi Olivia È Il G4 Che si giocherà ovunque Si giocherà in duo Si giocherà In Lauris In prisma Ecc È una buonissima Stride Ci permette di Pressare il nostro avversario Con un 26.000 Più critico Più supporto Ma soprattutto Ci permette di fare Multi attacco Attivare i bounce effect Quello multi attacco Potrebbe entrare ancora In armonia Attivando altri Multi attacchi È praticamente Il G4 Che aspettavamo Quando è uscito Bermuda Ai tempi Non l'abbiamo vista Era quella un po' Eh Ora che c'è Bermuda diventa Con la sua stride zone Con la sua D zone Competitiva Perché finalmente Ha il suo G4 Non gioca G4 A caso E non strida mai Perché sono più forti G3 Ora lo stride lo fa Perché vuole Vedere Olivia E va a picchiare Quindi adesso Non vedremo più Un Bermuda Concentrato Più che altro Su Ti sparo Si tipo duo Continua usare Raid Un Emuel Senza andare in stride Ora anche duo Comincerà a stradarci in faccia Ragazzi Mi dispiace Andiamo avanti Usciamo dal Fishing day Che penso che ormai Di pesci Ne abbiate abbastanza E arriviamo all'angel day Quindi ristiamo sulle donnine Questa volta però sono vangeli E abbiamo Battarelle Celestiale Dell'infortunio Legend di Celestiale Che passa da rara A comune Quindi continuano i downgrade Di oriental wave Fa legend Sia con Asmodiel Celestiale Del dosaggio Che è quella Che abbiamo già Che era la promo Che faceva Legend con la vecchia Legend O con LL Celestiale Del controllo Dopo la vediamo E quando questa unità Completa legend Mettiamo la prima carta Nella nostra deck TNR Scusatemi Le corte nomine La carta che abbiamo In vanguard L'unità schierata Prende più 5 Classica Strategia Celestiale Farci un più uno A default Se abbiamo qualcosa Di pacifico nei danni Si potenzia E poi dice Che quando questa unità Viene messa in gioco Guardiamo le prime tre carte Del nostro Mastro Ne mettiamo una nei danni E ci curiamo Una carta dei danni Serve per provare A mettere ancora di più La carta che abbiamo trovato Cioè la carta Con nome del vanguard Nei danni Per avere quindi Ancora più possibilità Di attivare le cose Soprattutto Oppure Per Per schifare Cioè C'è quella che ci vogliamo schierare Allora Batarelle Batarelle ho vista Giocare un po' Come backup a Gavrail Ma a me non è mai piaciuta Perché ti obbliga A giocare anche O LL O quell'altra Che Non sono Proprio Cioè giocavano Quella vecchia Perché comunque È un effetto Multi attacco In caso con Gavrail Che non è male Però In un mazzo celestiale Non so neanche Se vado a sottituire O Zerachiel O quella Forse vado a sottituire Quella vecchia Perché Non è che faccia tantissimo Come legion Quella vecchia Allora potresti mettere Questa E Zerachiel Come le due legion Per un mazzo Sì Le due g3 Per un mazzo celestiale Però Il downgrade a comune Già fa capire Che non è questa Enorme carta Anche se un altro Downgrade a comune Che vedremo più avanti In realtà è Manna Per una carta Veramente bella e forte Comunque abbiamo parlato Del mate Scusatemi del master Andiamo a parlare anche Del mate Quindi LL Celestiale Del controllo Quando questa unità Attacca un vanguard Se abbiamo un vanguard Con celestiale Nel suo nome Prende più 2000 Fino alla fine del turno Fino alla fine della battaglia Scusatemi Cassica carta Che diventa più forte Può attaccare da solo Senza supporto Nel caso abbiamo Un vanguard specifico In questo caso Deve avere celestiale Comunque Prende più 2000 Fino alla fine della battaglia Poi Se abbiamo una carta scoperta Nel torno danni Con lo stesso nome Di una tua unità Nel vanguard Quindi Cosa abbiamo messo in vanguard Fino al turno questa unità Prende Se colpisce Counter charge Soul charge 1 Ci rifonda Le risorse Il problema è Che celestiale Non ne gioca tante Non tantissime Quindi Andare a fare counter charge Salve fin là Ma non gioca Soul blast Poco e niente Quindi Se colpisce Ci fa qualcosa Della quale Non abbiamo estremo bisogno Quindi vedete che già No Non penso che verrà Molto giocata Come ho detto Se dovessimo giocare Celestial Come mate Tendenzialmente Terremo quello vecchio Perché comunque Il fatto che se colpisce Counter blast 1 Si switchano i danni Con qualcosa È già meglio Non avrà questa Grande potenza Però ci sta LL Non penso che verrà Tanto giocata Almeno che non vedete Il vostro mazzo Sprecca tanti Counter blast Perché Soul Angel Non gioca Vedere se il vostro mazzo Sprecca tanti Counter blast Perché soprattutto Tutto il fatto che Celestial Non vuole girare Facendo carte specifiche Quindi di per sé Come giocare Con meno danni Potrebbe farvi Propendere Per giocarla Però Per me No Non la vedremo Eccetera Spoiler di Piuma Angelica Molto Opinabili Diciamola così Andiamo avanti Troviamo Neonettare Neonettare Con Milis Fanciulla Del giardino Floreale Il critico Che abbiamo detto Anche prima Con Bermuda Quindi Quello che Se quando attacca Questa volta Con Ranuncolo Lo carichiamo Più 5 E peschiamo 1 L'avevamo già Diciamo Indovinato Con il sondaggio Quindi sapevamo già Che usciva E una doppia rara Si gioca in 4x In Ranuncolo Va a stituire I critici Che adesso Attualmente ci sono Quei 4 3-4 critici Va a stituirli Lei E niente Tutto qua Si giocherà Perché si giocano E questi critici Si giocano Quindi in Ranuncolo Come al solito Sarà stand crit E questi sono i crit Che giocherà Ascia E poi abbiamo Salianna Fanciulla Camera Floreale Da doppia rara A rara Quindi Altro bel downgrade Ed è Il Glimmer Breath Clone Adesso cominceremo a vedere I Glimmer Breath Clone I Glimmer Breath Sono quelli Quando entrano Counter Blast 1 E sul Blast 1 Fanno cose Se abbiamo il Vanguard Di grado 3 Specifico Anche questi Ogni clan Avrà il suo Glimmer Breath E infatti Prendendo questo nome Che è il Glimmer Breath Quello di Gear Cronico È stato il primo A fare questa cosa In Gb1 Quando questa unità Viene messa in gioco Se nostro Vanguard Ranuncolo Nel nome Counter Blast 1 Soul Blast 1 E scegliamo E scegliamo uno Del nostro retro Cerchiamo nel deck Una carta Con il suo nome La schieniamo in retro Mischiamo il nostro mazzo E quella carta Prende più 2 Fino alla fine del turno In pratica In entrata Fa l'effetto di Ashe Usando anche un Soul Blast Nelta stretta È forte? Sì Devo dirlo Ci sta come gioco Può Innescare Una mega combo Con Camelia Perché Grazie a Camelia Chiamiamo lei Che lei va a chiamare Qualcos'altro Oppure se Arborea Colpisce Noi possiamo chiamare Lei Che lei va a chiamare Qualcosa Nell'altra colonna Facendoci di nuovo Colonna Eccetera Può fare un po' Di giochini Resta il fatto Che Io Sinceramente L'ho provata Non l'ho mai attivata Quando la provavo Ai tempi Nei miei mazzi Neonetta Re Ascia Io la mettevo dentro Perché mi sembrava forte Ma ogni volta Che la vedevo O non avevo Counter Blast O volevo tenermeli Per Camelia Per lo starter Anche se Ormai non gioca più Cioè Ormai Ascia Non ha più questa Prepondenanza Di Counter Blast Perché Arriveranno carte Che vanno a studiare Carte che giocano Counter Blast Per serie Sterà solo Camelia Penso Perché Primavera Come sapete È uno strider Sì È un G4 Pinabile Abbastanza Tentativo Disperato Di provare A portare a casa La partita Le style fondamentali Sono Tintinnante Multivitaminico Eccetera Comunque Non avrà più Così tante Carte Che fanno Counter Blast Però Veramente Non mi veniva mai La possibilità Di attivarla Non riuscivo mai A capire Se andava bene Come combo Eccetera Quindi È comunque Però buona Nel caso di setup Più che di multiattacco Cioè C'è la possibilità Di fare multiattacco Con Camelia O altre cose Però La probabilità Anche di far setup Dobbiamo cercare L'ultimo G1 Abbiamo lei Ce lo va a cercare E non è male Adesso però Neonetta Non mi ricordo più Se già adesso O più avanti Ma soprattutto Vorrebbe essere promo Quindi dobbiamo sperare Che ce le facciano A uscire Cominci ad avere carte Che clonano i nomi E quindi Noi di per sé Siamo anche a posto Perché Non abbiamo più bisogno Di avere La back row perfetta Per avere Tintinnante Perché già G3 E lo starter Se esce Già si vanno a clonare I nomi tra di loro E quindi ci vanno A riempire il campo Quindi Salianna Si vedrà Spazio Potrebbe trovarne Bisogna vedere Cioè praticamente O giocate lei O giocate i vestiti A night Se escono Bisogna vedere Quale sarà meglio Ai tempi Comunque E' una buona Aggiunta al mazzo Neonettare Da doppia rara A rara Quindi è più facile Anche da reperire E Quindi è una buona Aggiunta Eventuale Al vostro mazzo Se giocate le piantine Andiamo avanti E troviamo Un supporto Per un mazzo Che è veramente carino E questo supporto Diventa Prende quel Tic in più Ovvero Divinità bestia Drago twist Divinità bestia Quando questa unità Viene fatta risvegliare Durante la fase di battaglia Se il nostro vanguard Con divinità bestia Nel suo nome Se il nostro vanguard Con divinità bestia Nel nome Noi possiamo pagare Un counterblast E scegliere Un aretro Con forza Uguale O inferiore A lui E ritirarla Allora Non è male Però non penso Che trova da spazio Perché Non è tanto Per il counterblast Che Divinità bestia Ne usa parecchi Perché tra papi e max Ne usa Poi la combo finale Tra virgolette Ne vuole usare Meno 2 Quindi Abidone di counterblast Non più che altro Che non andando a potenziarsi Non è detto Che troviamo un bersaglio Ritirare È sempre buono Può servire Nel Eventuale mazzo Che abbiamo Contro un laurel O qualcosa Ci può stare Forse in qualche pair Per shottare i laurel Per shottare le back row difficili Start Errognosi Eccetera Però Ha roba Più Importante A grado 2 Di drago twist Quindi Perché ha gli anglet Ha il bit Ne 12.000 C'è Divinità bestia Ha bisogno di cose Che bitano Che senza supporto Perché Non è sempre detto Che le abbia E ha papio Che papio è Fondamentale Una delle carte più forti Che ha Quindi Già là Sono 3 g2 Che tendenzialmente Si giocano in 4 4 3 Quindi Non so Trovere la spazio Forse in 2 copie Giusto per provare A A fare qualcosa Questa è Drago twist Ma la vero supporto Che danno A Divinità bestia È Catastrofe Distruttore etica Divinità bestia Definitivo Ovvero Lo stride Di Divinità bestia Che da gr Da fc Ci chiamo sempre Passa a comune È più facile Trovare È comunque Da fc Quindi sapete che fc Tendenzialmente Sono r Sono comuni Ci sono state poche carte Che sono state doppie rare E È Come abbiamo detto La stride principale Per un mazzo Divinità bestia Cosa dice Gira faccia in su Questa carta A nostra Gizon Se abbiamo come cuore Una carta con divinità bestia Nel suo nome Fino alla fine del turno Questa carta prende Out in vanguard Quando ne andiamo a cercare Una carta con divinità bestia Di grado 1 superiore Quindi Una carta che non sia un trigger O eventuali start Che giochiamo in più Ma non gioca così Nessuno in più Comunque quando Riveliamo un grado 1 superiore Con divinità bestia Nel nome Scegliamo un elettro E la risvegliamo E se il numero di carte Scoperte A faccia in su Nel nostro Gizon Con nome Catastrofe ed etica È 2 o superiore Quindi è la seconda stride Ed avendo girato Con il reverse Con il reverse Vedete la combo Vado a fare break ride Su reverse Quella carta Facendo break ride Su reverse Attivo la combo Counterblast 2 Scarto 2 Il mio vanguard Si risveglia Ma grazie alla break ride Oltre a diventare un 13 Di base Perché in cross ride Guadagna l'effetto E quando attacca Risveglia Quindi andiamo Attacco di retro Attacco di retro Attacco di vanguard Che risveglia l'elettro Attacco di retro Attacco di retro Attacco di vanguard Che risveglia l'elettro Quello è il turno Tendenzialmente finale Il turno grosso Che proprio Proverò a richiudere Di inizia bestia Prima dove Aveva bisogno Di qualcosa Da fare prima Perché quella La fai quando Il tuo versario Ha 4 5 danni Anche tu sei arrivato A 4 E sei in In mid break Ora finalmente Ce l'ha Che è catastrofe Ce ne frega Il cavolo De 3.000 Noi Stiamo giocando Di inizia bestia Prima stride Catastrofe Seconda stride Catastrofe Terza stride Catastrofe Finché non arriviamo Al momento In cui dobbiamo Provare a chiudere La partita E allora Andiamo a fare La Andiamo a praticamente Raidare Il reverse Girocherà 4 break 4 reverse Forse Forse Un extreme Giusto per Provare anche Quell'extreme Ma di per sé Lui è extreme Fatto bene E quindi Non c'è bisogno Di extreme Carta che serviva Di città bestia Glielo danno Divenuta bestia Non dico che diventerà Un mazzo Che vedremo ai tornei Ma diventerà Giocabile Diventerà Fattibile È un mazzo Che può dire Anche la sua Quindi aspettiamoci Vedere anche qualche Diventerà bestia Nel pool Delle carte Che girano Clown Fortemente Piccante Arriviamo con supporti Per Luna pallida Il pool Il pool Il pool Il pool È un Broken heart Di Luna pallida Quando un'altra Delle tue Retroguardie Viene messa In retro Dall'anima Questa unità E il nostro Vanguard Prendono più due Esattamente Come broken heart Solo che Anziché andare Sui danni Lui va Sulle carte Scherate In anima Fa diventare Un lui In attacco Grosso E il nostro Vanguard In attacco Grosso Verrà giocato Non saprei dirvi Perché Luna pallida In G Non si concentrerà Tanto su attacchi Grossi Ma su tanti Attacchi Piccoli Cioè farà Comunque colonna Farà Perché ha le Principesse Eccetera Ma non punterà Tanto Diciamo Come Silverthorn Per esempio Che aveva Faceva la Mega combo E poi aveva i leoni Che erano Grossi As fuck Harry Punta Più che altro A fare colonne Tipo da 21 16 Più che altro 26 Se proprio Però Di più Più di una Quindi Attacco Ributti in anima E tendenzialmente Quindi noi Non vorremmo Avere una carta Che sta lì A fare sta roba qua Perché Il concetto suo È che noi Continuiamo a fare Chiamate all'anima In modo che si potenzia Lui l'ultimo attacco Noi tendenzialmente Con il Vanguard Attacchiamo come Se facciamo Retro Retro Vanguard Perché Non tanto per stand Eccetera Perché tipo Stiamo giocando L'R EGR E quindi Noi vogliamo Buttare dentro Le due front E un supporto Per poi Richiamare fuori Oppure Non so Vogliamo fare Provare l'attacco Potrebbe essere Giocato in qualche Copia Ma per me Più che Il fatto anche che Non abbia Questa grande Effettività Nel mazzo Ha tanti Ha tanti G2 Luna Palida Più Importanti E uno Lo vedremo Anche dopo Ma soprattutto Anche il fatto Che a differenza Dalla Broken Heart Che il vero concetto Della Broken Heart Di forza È il fottore Difensivo Perché noi Possiamo switchare I danni O comunque Ci fanno danno E quindi Il potenzialmente Dalla Broken Heart Parte anche dal punto Di vista difensivo Lui è solo Offensivo Perché non andiamo Mai a schierare Carte dall'anima Durante il turno Nostro avversario Ci sono delle carte Che lo fanno Sì mi sembra Ma si arrivano Fra un po' E sono poche Non sono tantissime Non è come Angel Che continua a farla Sta cosa Là è forse Due Gigard In totale Ma Qual è La carta Il G2 Che invece Luna Palida Voleva vedere E gli hanno dato Ovviamente È il Periton Volante Periton volante È un G2 Fondamentale Per Luna Palida Da Harry Magia Quindi O magia Chiamata come Non so come Diro in italiano Out in retro GB1 Quando questa unità Viene messa in gioco Facciamo un Soul Charge Scegliamo La nostra Carta Nostra Ananima La schieramo Nella sua Stessa colonna E Alla fine del turno Quella carta Passa in anima Lui ci permette Di fare Tutte le Più grandi Porcate Che possiamo fare Con una pallida Perché Se lui viene chiamato Si fa colonna solo Ma soprattutto Adesso non tanto Perché ci manca La paratrooper O almeno Oddio Se non esce Già adesso Potrebbe essere Che lui Si chiama Lui chiama Un'altra carta Quella carta Che chiama Un'altra Che le chiama Un'altra ancora E quindi Noi andiamo A concatenare A rifarci Per esempio Più avanti Avremo Una carta Che si chiama Paratrooper Che fa La stessa roba Però In back E anche potenziando Quella che va a chiamare E non chiama Nella stessa colonna Ma chiama Dove vuoi Quindi il concetto Di una pallida È Ti attacco Con il G4 Quello Forte Tra virgolette Se qui Scusate Quello La trial Ho colpito Bene Chiamo Pteridon Pteridon Chiama Paratrooper Paratrooper Chiama un'altra Pteridon Chiama un'altra Carta sotto Ci siamo rifatti Entrambe le colonne Solo perché Abbiamo colpito Quindi vedete Quello che vi dicevo Di una pallida Non punta tanto A fare Colonna Cioè lasciare Una colonna Grossa Che continua A potenziarsi Per andare A fare l'attacco La sua strategia Di base È ricreare Le colonne Dopo che hanno Attaccato E quindi E poi ovviamente Tutto Rifinisce in anima Quindi non andiamo A perdere retro Per rifare Dopo tutte Porcate Eccetera Quindi questa è la strategia Di base Di luna pallida Grazie al Pterion Volante Finalmente A strategia Vedremo Cioè Verrà giocato Tranquillamente In 4 pera Addirittura Era stato limitato In inglese Costa La follia Ora non più Perché mi sembra Che l'hanno stampato Ma non sono sicuro Comunque Costava la follia Ora capite il perché Il Pterion Volante È una carta Fortissima Per Maghia Che deve Non può essere Giocata Ma deve Essere giocata Quindi Con gli spoiler Di oggi Di Bermuda Eccetera Abbiamo completato Il set delle triple Non ci sono più Triple supposte Le abbiamo tutte Le 10 Senza dubbi Abbiamo quasi Finito le doppie rare E quindi Puntualmente Quella prossima Stimana Già ci comincerà Un po' A delineare Un po' Meglio Diciamo Le rarità Eccetera Aspettiamo Ricordiamoci che domani C'è anche il TG Quindi avremo Altre info Ancora Questo video Si chiude qui E ci vediamo A una prossima volta